Cioè abbandonato da un amico in una maniera così, guarda veramente, e lui è dietro la televisione, è lì eh, è lì, come si chiama lui? Almeno parliamo di lui. Si chiama Diego ed è anche fratello, non solo amico. Fratello, fratello, cioè c'è un fratello, Caino, Caino, te lo dico, Caino, lui è Bele buono, tu Caino cattivo, te lo dico. Allora no, domanda di oggi, non ci facciamo una domanda così, l'imbarazzo, c'è qualcosa che ti mette in imbarazzo? No. No, frega niente lui, perché è l'imbarazzo di che? Niente, assolutamente niente. Niente, no, no. Donne, c'è approccio, robe, niente. No, no, tranquillo, senza... Adesso lui sta facendo, porca miseria, sono in copia fissa, adesso dico una stupidaggia, è finita, sono rovinato, quindi questo qua poteva creare un imbarazzo. Cioè sei già accoppiato, no, accoppiato è bruttissimo. Si è apposto così, apposto così, apposto così, quindi, quindi, eh, vedi, quel discorso lì potrebbe reccare imbarazzo, ah, preso. Comunque tuo fratello Caino, sappilo. Comunque tuo fratello Caino, sì, ti metto il algoritmo progetto. Comunque tuo fratello Caino, che può fare un'imbarazzo di cui...